È stato un G20 molto importante, molto impegnativo, questo di Antalia. Il G20 è l'iniziativa economica che riunisce le 20 principali economie del mondo e quindi affronta innanzitutto le questioni che riguardano la sfera della finanza, dell'impresa e dell'economia tradizionale. Rispetto a un anno fa dove c'eravamo visti in Australia, Brisbane, l'Italia ha fatto dei passi in avanti molto importanti. Non vogliamo sottovalutarli anche perché il riconoscimento di questi sforzi è arrivato direttamente dai nostri partner. Un anno fa non c'era la riforma del lavoro, un anno fa non c'erano le riforme strutturali, un anno fa non c'era la riduzione delle tasse. Tutti i impegni che abbiamo preso e poi mantenuto e che hanno portato l'economia italiana dopo tre anni di crisi ad avere il segno più. Naturalmente c'è ancora molto da fare, abbiamo discusso a lungo della riduzione della disoccupazione giovanile. Il G20 si è dato un obiettivo di 15% in meno, siamo passati dal 46 al 40, un numero ancora molto alto, 46 al 40%, dovremo ridurlo ancora. Il G20 ha dato degli obiettivi ambiziosi nella lotta contro la corruzione, contro l'evasione fiscale e mi fa piacere che gli esempi italiani siano stati considerati come delle best practices, cioè come delle occasioni, delle buone pratiche, delle occasioni tra virgolette da copiare. Una volta tanto l'Italia sui temi della corruzione e dell'evasione fa notizia perché fa qualcosa di nuovo. L'ANAC che ha permesso di svolgere Expo insieme all'aiuto di tanti altri è anche la dichiarazione dei redditi precompilata e la fatturazione elettronica che consentono di ridurre l'evasione e di andare a scovare quelli che fanno i furbi. Dunque un risultato credo molto importante. A me pare che la sintesi estrema del G20 sia contenuta una volta di più nel grande invito che ha fatto il Presidente Obama a stressare i valori della crescita, degli investimenti, della mettere più risorse nelle tasche dei lavoratori. Noi abbiamo fatto l'operazione degli 80 euro, abbiamo adesso lanciato la riduzione delle tasse partendo dall'Imu e dalla tasi di prima casa che riguardano per il 75% lavoratori dipendenti o pensionati, quindi sono più soldi che vanno alle persone che quotidianamente fanno fatica ad arrivare in fondo alla giornata. Dunque più soldi in tasca ai lavoratori, più crescita, più investimenti. È la linea politica dell'Italia, è la linea politica economica che questo governo ha mandato avanti. Da qui al vertice in Cina che sarà tra dieci mesi, il 4 e 5 settembre del 2016, contiamo di dare il colpo di reni definitivo della ripartenza del nostro Paese ma questo credo che serva soprattutto ad un'Europa che ha bisogno non soltanto di austerity ma ha bisogno soprattutto di crescita. Questo è il leitmotiv economico del G20, crescita, 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 investimenti e più attenzione alle regole. Con i buoni esempi che vengono dall'Italia della lotta alla corruzione e all'evasione fiscale. Sul fronte ovviamente internazionale, al di là del discorso economico, tutto si è focalizzato sulla lotta al terrorismo, sull'intervento in Siria e anche questo un passo in avanti c'è stato rispetto a un anno fa con la Russia che torna al tavolo internazionale, torna al centro e quindi la linea dell'Italia la ribadisce quella di avere una grossa convergenza verso una strategia per combattere l'ISIS e non azioni immediate e basta. La sfida dell'ISIS e la sfida del terrorismo è una sfida molto grande, una sfida drammatica. Tutti noi abbiamo nella mente un fatto molto semplice, che i terroristi stanno colpendo i luoghi simbolo della nostra identità. I terroristi non attaccano degli obiettivi militari, hanno attaccato un museo a Tunisi, hanno attaccato un'università in Kenya, una scuola in Pakistan e attaccano un teatro, uno stadio, un ristorante a Parigi. Dunque i terroristi puntano a farci paura, puntano a disintegrare le basi della nostra identità. Come si risponde? Non si risponde certo semplicemente con un atto distinto. Occorre naturalmente essere molto determinati, molto duri. Noi saremo totalmente pronti a esprimere questa determinazione e questa tenacia, ma occorre anche avere l'intelligenza, la saggezza e l'equilibrio di parlare alla nostra gente e di dire che questa non è una questione che si risolve come uno schiocco delle dita. Chi ha in mente soluzioni semplicistiche di fronte al più grande problema del nostro tempo non si rende conto di creare soltanto illusione agli occhi degli italiani e degli europei. Dunque occorre una strategia. Occorre dire che il terrorismo è in varie parti del mondo, occorre avere un approccio complessivo e capace di comprendere tutto, dall'Afghanistan alla Nigeria, dalla Libia alla Somalia, fino naturalmente alla Siria all'Iraq. E in questo senso a me pare molto importante che il principio italiano, che era quello, riportiamo anche la Russia al tavolo della discussione, stia finalmente portando qualche risultato. Che non vuol dire delegare alla Russia la risoluzione dei problemi come qualcuno ha immaginato, ma vuol dire sulla base della guida degli Stati Uniti e sulla base della cooperazione con la Russia e le altre potenze, le potenze dei paesi arabi, riuscire tutti insieme come europei ad avere una strategia seria. Ecco, occorreranno mesi, forse anni, per risolvere questo problema. E non crediamo nemmeno alle banalizzazioni, quelli che dicono che il problema è che arrivano troppi immigrati a casa nostra. Lasciatemelo dire, è sicuramente un tema da approfondire, da affrontare, nessuna sottovalutazione, massimi controlli, l'Italia è impegnata su questo, abbiamo fatto quasi 60.000 controlli con le nostre forze di polizia, di carabinieri, la guardia di finanza, che voglio ringraziare per la professionalità. Ma se noi guardiamo gli attentati, spesso vengono fatti da persone che sono cresciute in Europa, che sono magari arrivati da due, tre, quattro generazioni, ma che sono cresciute nelle scuole europee, che sono diventate grandi nelle città e nelle periferie europee, che hanno giocato a calcio nei settori giovanili delle squadre di Parigi o di Copenhagen o di Bruxelles. E' stato ucciso venerdì mattina il boia dell'Isis, quell'osco figuro che con il coltello ha tagliato le teste di fronte alle telecamere, che tutti gli italiani e tutti gli europei hanno ben impresso in mente, perché l'hanno visto con quest'opera squallida, atroce e terribile, di esecuzione di alcuni ostaggi dell'Isis. Bene, quella persona lì era un cittadino inglese, che era cresciuto nelle scuole inglesi. E alcuni degli attentatori in Francia, probabilmente la maggior parte, erano cittadini francesi. Dunque, occorre avere grande equilibrio, grande determinazione, non dare però l'idea ai nostri concittadini e connazionali che la banalizzazione del problema aiuti a risolverlo. È una sfida difficile, l'Italia c'è. Siamo un paese solido, un paese forte, un paese che fa i controlli, un paese che ha una grande qualità delle proprie forze di polizia. Chi veste una divisa, e io lo voglio ringraziare, dimostra ogni giorno che passa l'attaccamento al paese. La nostra intelligence è a lavoro con professionalità. Rinnovo l'appello alle forze politiche, perché su questo tema non ci siano divisioni e litigi. Si può discutere di tutto, la campagna elettorale, le leggi, le riforme, tutte cose su cui si può e si deve discutere in democrazia. Ma ci sono dei valori fondamentali su cui l'Italia deve essere unita. Io avverto la responsabilità di questo momento e contemporaneamente con la coscienza e la responsabilità che deriva dal mio ruolo, dico rimaniamo uniti come paese, abbiamo la forza per poter affrontare questa grande sfida, occorreranno dei mesi e degli anni. E noi siamo totalmente determinati, insieme ai nostri partner, ad affrontare questa sfida insieme. È stato importante nell'ultimo incontro anche con il Presidente Obama che sia stata evidenziata la situazione della Libia, perché la Libia è il simbolo di come le cose non devono funzionare. Si sono fatti dei ride, forse pensando di poter soddisfare l'opinione pubblica di alcuni paesi europei, si sono fatti dei ride e non si è costruito una strategia. Da quattro anni la Libia è terra di nessuno. Noi abbiamo bisogno di una strategia di grande intelligenza, di grande presenza, di controllo non soltanto del territorio, ma anche di medio raggio dal punto di vista di politica internazionale, di geopolitica. Ci siamo, siamo pronti. Mi fa piacere che ci sia una grande e sostanziale condivisione all'interno della comunità internazionale, a partire dal Presidente Obama. Presidente, sul piano europeo sull'immigrazione, sembra che possa essere compromesso dalla paura di questi giorni. La Polonia dopo gli attentati a Parigi ha annunciato parole chiare, Juncker ieri ha detto no, deve essere rispettato. Lei è preoccupato da questo punto di vista? No, io non sono preoccupato. Io ho sempre detto e continuo a ripetere che la questione dei rifugiati è una questione che l'Europa deve affrontare per essere credibile con se stessa. è molto facile in queste ore fare l'equazione i rifugiati uguale terrorismo. Qualcuno la sta facendo. Non siamo nelle condizioni di poter dire con certezza che gli attentatori di Parigi, nessuno di questi fosse un rifugiato, ma il punto che possiamo dire con chiarezza è che praticamente la quasi totalità dei rifugiati sta scappando da quegli stessi terroristi animali che abbiamo visto in azione nelle nostre città. Scappano dalla povertà, scappano dalla guerra, scappano dalla fame. Allora la risposta a questa emergenza sul medio periodo è quella di costruire occasioni di business nei territori a partire dall'Africa in cui queste donne e uomini si trovano a dover agire. Se tu riesci finalmente a sfruttare le ricchezze dell'Africa in modo intelligente, facendo crescere piccole e medie imprese locali, investendo sui cosiddetti obiettivi del millennium, cioè se fai finalmente quello che deve fare una politica seria, la cooperazione internazionale e gli sviluppi sul territorio, allora sarà ovvio che il numero di persone che scappano dalla propria terra sarà minore. Ma scappano dalla fame, scappano dalla dittatura, scappano dal terrorismo. Noi dobbiamo far sì che si possa sradicare alla radice la fame, la povertà e si possa farlo con iniziative di tutta la comunità internazionale che mette tanti soldi in tantissime iniziative e ne mette meno di quelli che servono, ad esempio, nella lotta per gli obiettivi del millennium. Ecco perché noi abbiamo messo quest'anno più soldi sulla cooperazione internazionale. Chi dice aiutiamoli a casa loro non può non ricordare che per anni si sono tagliati i fondi per la cooperazione internazionale. Se vogliamo aiutarli a casa loro dobbiamo farlo, non dobbiamo soltanto dirlo. Quindi c'è bisogno di una solida presenza dell'Italia. L'Italia è un grande paese. L'Italia è un paese in condizione di risolvere tutte le sfide, e anche quelle più drammatiche. L'Italia ha vinto il terrorismo interno, l'Italia ha vinto la mafia, l'Italia è in condizione anche di affrontare una sfida difficilissima, ma la sfida più grande è quella di sconfiggere la paura. E allora rispetto alla questione del piano europeo, noi andiamo avanti con le nostre decisioni, con molta tenacia, abbiamo ottenuto che la questione dei rifugiati fosse una questione condivisa a livello europeo. Alcuni aerei stanno partendo dai nostri centri per andare a accompagnare questi nostri fratelli e sorelle africani, medio orientali, in altri paesi europei, perché è giusto così che l'Europa viva insieme questa sfida, ma non sono preoccupato per la gestione dell'emergenza rifugiati. Sono piuttosto convinto che dobbiamo fare di tutto perché nelle discussioni che ci sono a casa, a tavola, io so che tante famiglie, immagino che tante famiglie in queste ore stiano parlando, ci sia sempre uno sforzo di approfondimento del problema. Ricordate, chi vi dice che sono i rifugiati il problema del terrorismo, mi sta raccontando una cosa che semplicemente non è vera o che perlomeno è una cosa che deve farci riflettere sulla diversità delle due sfide. Una cosa sono i rifugiati e una cosa è il terrorismo. Il terrorismo magari non lo vinceremo nel giro di una settimana o di due, ma con l'impegno di tutti e di tutte le donne e uomini di buona volontà l'Italia sarà in condizione di affrontare anche questa sfida. Presidente, lei parlava appunto dei terroristi, molti sono nati e cresciuti in Europa. Però allora forse c'è una sfida dell'integrazione che in qualche modo non è stata affrontata nel modo giusto, cioè che cosa si è sbagliato? Io credo che ora sia il momento innanzitutto dell'emozione, della commozione, di asciugare le lacrime, di tenere vivo il ricordo di chi ha perso la vita. Quando ci sono queste stragi vale sempre il numero, no? Uno dice ci sono, cento. Io penso che il problema siano i nomi, non i numeri. Noi ricordiamo Valeria, ricordiamo le persone che hanno perduto la vita in quel teatro nelle strade di Parigi e vogliamo ricordarle per quello che sono state, per come sono stati dei cittadini capaci di dare qualcosa a questo paese. Quindi stiamo innanzitutto riflettendo su come ricordare, ad esempio, attraverso una borsa di studio, chi ha perduto la vita in quel modo atroce. Poi c'è il secondo passaggio, che è quello di gestire la reazione con un livello strategico, con una visione strategica. E poi naturalmente c'è il tema di come uno vive la capacità integrativa. Le nostre scuole sono fondamentali da questo punto di vista, perché i bambini che vanno nelle scuole italiane devono sapere che ci sono dei valori belli, forti, di bellezza, di rispetto, di dignità umana che sono caratterizzanti l'identità del nostro paese. E credo che da questo punto di vista sia fondamentale il lavoro che può fare una larga parte, direi la totalità, dell'Isla Moderato, che sta aiutando in questo senso e che deve aiutare sempre di più. Ne abbiamo parlato con alcune autorità di questi paesi. È fondamentale il lavoro che devono fare gli operatori scolastici, le donne e gli uomini che lavorano nei nostri quartieri. È fondamentale investire nelle periferie. È fondamentale che lo sport, questo straordinario linguaggio universale, sia in grado di avvicinare e non di respingere. È fondamentale che la musica aiuti ad essere elemento di unione. Tutte queste cose sono fondamentali per creare un livello diverso di vita nelle nostre città. Ovviamente ci vuole poi il pugno non duro, durissimo, contro chi delinque. E da questo punto di vista credo che sia importante sottolineare ad esempio che l'Italia ha espulso in un anno 55 persone sospettate di essere degli estremisti. Non è che con questi 55 gli abbia fatto il discorsino sociologico, tu cosa pensi? Gli abbiamo presi, siamo andati a prenderli, li abbiamo caricati su un aereo e li abbiamo espulsi dal nostro paese. Questo è molto importante. Gli italiani sappiano che noi siamo molto convinti che occorra una visione strategica di lungo periodo, di solidità, di determinazione, ma siamo anche capaci del pugno duro contro coloro i quali non rispettano le regole del nostro paese. Aiutandosi tutti, evitando le polemiche inutili e cercando di valorizzare quanto di buono l'Italia ha e avrà, io sono assolutamente certo che saremo in condizioni di vincere anche questa sfida. Grazie.